Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Non decolla la campagna vaccinale anti-Covid nel Pescarese con poche somministrazioni rispetto alle disponibilità e alle previsioni e anche ora che sono disponibili i sieri che coprono contro le sottovarianti di Omicron, compresa l'ormai nota Omicron 5, diventata dominante negli ultimi mesi. La situazione non è cambiata. La dottoressa Graziella, soldato, direttore dell'Unità Operativa Complessa, Igiene e Sanità Pubblica dell'Ospedale di Pescara, parla dei nuovi vaccini e illustra la situazione. Come in ogni campagna vaccinale, soprattutto per la vaccinazione anti-Covid, si attendeva una migliore risposta per le dosi successive alla terza. Io invito tutti quelli che non ancora l'hanno fatto a recarsi negli hub vaccinali e a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Oggi abbiamo dei vaccini con i ceppi aggiornati con le sottovarianti di Omicron che offrono una protezione ottimale contro le infezioni della SARS-CoV-2. E anche le nuove varianti probabilmente. Sì, esattamente. Quindi la variante Omicron e le sottovarianti 1, 4 e 5. Sono già disponibili. Sono già disponibili da qualche giorno. E anche per i vaccini in età pediatrica i numeri non sono alti anche se quest'anno, come lo scorso anno, anche la vaccinazione anti-influenzale è stata estesa ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Noi comprendiamo i timori dei genitori nell'avvicinarsi a queste pratiche sanitarie. D'altra parte l'AGE promuove politiche familiari per aiutare i genitori anche in queste fasi e per cui promuoviamo e organizzeremo un incontro proprio sulla vaccinazione pediatrica il 15 novembre alle 17.30 nella palestra della scuola Tinozzi per informare e rispondere a tutte le domande e i dubbi che i genitori ci vorranno esprimere. Quali sono le domande ricorrenti? La reazione al vaccino, quale può essere, se è opportuno praticare un vaccino esavalente in un bambino piccolo, se ci sono delle reazioni allergiche, gli effetti collaterali che nel tempo i vaccini possono dare e questi sono più o meno i dubbi che tutti i genitori hanno nell'avvicinarsi al vaccino e anche la paura della risposta immediata che può essere quella allergica per esempio.